Musica Allora, congresso di radicali italiani, undicesimo congresso, la seconda giornata, quello dell'Ergife di Roma. Siamo in compagnia di Silvio Viale, il presidente di radicali italiani. Silvio, è sotteso in questo congresso un pochino il portato di un dibattito anche precongressuale che c'è stato, abbastanza acceso, sulla possibilità o meno di soggetti politici in casa radicale che non fossero a lista pannella che si potessero candidare. E un pochino anche sul discorso di radicali italiani come soggetto politico autonomo. Se ne parlerà, se ne è un po' parlato anche in modo latente, credo più nella relazione di esoreria che quella del segretario. Tu che cosa ci dici su questo? Guardi, mi pare che sia una polemica, un discorso un po' astratto che non tiene conto della realtà. La realtà è che i radicali sono sempre presentati con la lista Marco Pannella come associazione, che è un'associazione monocratica, tra virgolette, cioè non fa parte di un dibattito d'associazione radicale. E poi quella che oggi chiamiamo la galassia, ma che è sempre stata l'area radicale. E in quest'area i radicali italiani, che io difendo, sono l'associazione più politica, tra virgolette, cioè quella che affronta i temi dell'attualità nel suo complesso e che rappresenta i radicali in Italia, di fatto. Teniamo presente che il partito radicale transnazionale ha nello statuto il non presentarsi alle elezioni. Quindi qualora prevalesse una tesi che è quella del partito radicale, la questione è chiusa, esiste il partito radicale e a parte, a lato, la lista Marco Pannella che decide di presentarsi a secondo dei contesti politici, eccetera. Abbiamo quattro associazioni di questo pacchetto del radicale che sono delle onlus, che beccano i soldi del 5 per 1000 e questo di fatto li preclude una rappresentanza politica partitica di primo piano. Sarebbe come dire che Libertà è uguale o dell'associazione del PD avesse il 5 per 1000 e poi concorrono. Sarebbe abbastanza ridicolo, insomma, questo sarebbe più a denunciarlo. Quindi poi rimangono alcune associazioni che hanno comunque un ruolo minore, adesso non sento andare a ledere l'importanza di noi di loro. Quindi mi pare che la ricarica italiana faccia il suo dovere, organizza il dibattito, ha il congresso molto frequentato. Oggi siamo già oltre 300 presenti, nonostante il solito weekend, Roma, il fatto che i romani tendano ad arrivare dopo e chi viene da fuori tende ad arrivare magari anche dopo. E quindi abbiamo affrontato i nostri temi. Qui è il tema del sistema elettorale perché poi la grande questione della riforma dello statuto si racchiude, si riduce poi al betto elettorale per il comitato di radicali italiani che in passato aveva delle liste bloccate, tipo quelle sindacali con delle liste diverse ma senza preferenze in cui passano in ordine in cui sono messi e questo aveva creato un po' di malumori perché c'era una sorta di mercato delle trasmigrazioni. Cioè io se ho alcuni amici, compagni che mi votano, vengo da te, ti chiedo di stare in lista, tu mi metti ventesimo e io dico no, io voglio stare decimo, vado dall'alto, gli chiedo, quello mi mette decimo, sto con lui. E questo è arrivato a un punto, lo sto banalizzando, ma per far capire a chi fosse fuori. Si arrivò l'altra volta scorsa a fare il metodo di lista unica con le preferenze, preferenze ponderate all'australiana, poi non è così, anche questo ha creato un po' di malumore perché come al solito chi è escluso poi si arrabbia, questo vale. In realtà questo ha permesso un forte ricambio, nel comitato ci sono molte facce nuove per cui un sistema che secondo me ha fatto fare un passo avanti. Probabilmente sarebbe bastato eliminare questo valore ponderale del preferente, il punteggio 5, 4, 3 e fare una lista unica con 3 o 5 preferenze che permetteva in un gruppo in cui voteranno alcune centinaia di persone una selezione e anche la possibilità, che io rivendio come una cosa positiva, che anche il radicale è scritto l'altro giorno, arriva qui al congresso, si candida, non è sottoposta a nessun esame da parte di nessuno e sei voti va nel comitato. Nei limiti del comitato che decide, ma come detto prima non può decidere al di là delle competenze, della lista Pannella o di altri soggetti radicali. Però è il comitato radicale italiani. Ecco perché secondo me sta un po' di confusione, come spesso capita nei dibattiti, come in qualsiasi condominio radicale, alla fine diciamo della chimogalassia, ma direi che forse l'immagine del condominio potrebbe essere più azzeccato, come capito nel secondo minio vi sono anche posizioni strumentali, per cui dietro un po' di confusione sia nel comitato che dopo, si è preferito lasciare così com'è, peraltro in due comitati convocati prima del congresso Marco Pannella intervenne per criticare, in qualche modo stoppare modifiche statutarie e questo chiaramente non è stato ininfluente e ha condizionato, credo, l'umore generale, per cui alla fine anche la proposta di mediazione di buonsenso non è stata accettata ed è rimasto il sistema attuale quello attuale che prevederà che ogni delegato, ogni partecipante al congresso, poi io continuo a dire delegato e non ritengo una parolaccia perché uno è delegato per se stesso a votare, non per altri, ma sembra sia una bestemmia in casa radicale, ha cinque voti, può esprimere cinque preferenze di quelle che si candideranno, ci saranno come al solito un centinaio di candidati e il sistema sarà un ordine delle preferenze per cui la prima preferenza varrà cinque punti, la seconda quattro, tre, due, uno e alla fine si tireranno le somme. Ascoltando, mi è venuto in mente di chiederti alcune cose, intanto la conferma che quello che fu un mandato dato dal congresso scorso di un anno fa a questa modifica statutaria di fatto finisce così, non un fiume carsico, al contrario, un fiume che per evaporazione si perde. E' continua, è come tutti i fiumi, continua, è dove andare a finire al mare, prima o poi dove passa, non lo so. C'è anche da dire, devo dire attestamente, che la commissione che si è riunita è stata un po' autartica, è stata criticata per aver fatto questo progetto, ha inserito anche la modifica di un preambolo politico e questo è quello che forse ha voltato di più. Se fosse limitato a porre la questione del sistema elettorale alcuni mesi fa, senza pretendere di modificare anche il preambolo dei radicali italiani, probabilmente avrebbe descato la discussione che sembra approdata qualche cosa. Peraltro la proposta di rifare le liste con le preferenze, come fosse un sistema polzionale, mi sembrava quasi la proposta dei casini per le politiche, torniamo lì così, era vista anche come un passo indietro da molti. Come tutte le questioni controverse bisogna proporle molto prima e dare lo spazio alla discussione. Questo non c'è stato, ma non è di per sé una cosa negativa o positiva. Si prende atto, si va avanti, si modifica il sistema elettorale per la prossima volta. Perfetto. Allora, senti Silvio, di fatto praticamente quindi al momento non ci sono modifiche. ognuno tu hai detto che in qualche modo è delegato a se stesso, quindi ci sta questo esercizio di libertà che è abbastanza, però accadono anche dei fenomeni che sono un po' nell'ambito di questa galassia che non ha statutariamente o è statutariamente un luogo dove si discuta e si possono prendere decisioni vincolanti per tutti. Questa è una cosa che non c'è, probabilmente anche volutamente non esiste, però accadono poi delle cose un po' particolari in quanto dato la mitologia della doppia testa radicale abbiamo degli eletti radicali che fanno i digiuni per due cose esattamente opposte. Questo un pochino anche all'elettorato potrebbe anche in generale delle confusioni. Io sto parlando di Giacchetti che sta digiunando per la modifica della legge elettorale è invece Maurizio Turco che in ottemperanza chiede il rispetto di una direttiva della comunità europea per non avere un cambiamento della legge elettorale prima dell'anno dalle elezioni. Non ti sembra che poi la gente capisca un po' dei radicali oppure anche male? Direi che forse per alcuni versi è una fortuna. Poi Giacchetti e Turco sono entrambi iscritti al partito radicale transnazionale e nessuno dei due in quel momento è iscritto radicali italiani. Questo no, proprio per chiarezza perché altrimenti poi c'è molto equivoco su questo. Tra radicali ognuno prende iniziative, in questo momento abbiamo almeno una ventina di compagni che fanno un digiuno per 4, 5, penso 6 questioni differenti. Questa è una contraddizione, però non c'è una posizione radicale ufficiale su questo. Deve emergere da un confronto. Il confronto di solito o è radicale italiani o è la posizione di Marco Pannella. È inutile regare che la figura di Marco Pannella per la sua storia è centrale nella galassia del condominio radicale nella radicale ed è ineludibile per chiunque. Ecco perché può essere una contraddizione, ma è così e non possiamo in qualche modo... Non è una contraddizione, ci sono tanti partiti carismatici, ci sta anche ripetendo. Non è messo per statuto, non c'è questo tipo di... ma è una figura indubbiamente... Oggi Marco Pannella parlerà a mezzogiorno, non so quanto tempo parlerà, tutti aspettaranno di che Marco Pannella e dopo condizionerà l'intervento degli altri perché molti modificheranno i loro interventi non andando magari a osare a dire cose differenti. Io ho le mie cose da dire, le dirò indipendentemente da quello della Pannella e c'è un confronto da vedere, c'è un quadro politico molto molto delicato. Sulle questioni della decisione politica io ricordo che quando si decise la Rosa del Pugno fu radicali italiani a sancire l'accordo con i socialisti. Poi ci fu anche l'associazione Croscioni che lo decise come comitato e i giovani socialisti che lo decise non so in che modo. Però fu il congresso di Riccione che decise l'operazione di la Rosa del Pugno che poi fu fatto da una specie di organismo congiunto socialisti radicali dove fumo messi le personalità più rappresentative in vista in quel momento dei radicali, presi un po' così in qualche modo. Molte volte questi formalismi sono nostri al nostro interno, all'esterno non sono percepiti, nel senso che all'esterno sono irradicali. Quindi io credo che anche al nostro interno la chiarezza fino in fondo non viene mai fatta, è difficile farla perché vi sono contraddizioni che di volta in volta, l'ho detto in modo per la lampante. Se qualcuno dice che i radicali italiani non rappresentano i radicali d'Italia ed è vero, è possibile, è una delle rappresentazioni, ma che sarebbe il PRNT a doverlo rappresentare, allora dar per scontato che i radicali non dovrebbero presentarsi alle elezioni, anche sulle doppie tessere. Io credo di essere uno dei pochissimi doppie tessere radicali italiani e PD, perché sono radicali italiani e ho la tessere del PD dove non faccio politica del PD ovviamente, e però sono consigliere comunale nel gruppo del PD elettrico radicale e questo. Altri non ne conosco, mentre le doppie tessere sono tutte con il PRNT, perché ovvio sei doppia tessere di un partito che si presenta alle elezioni PD, PDL, Italia dei Valori, LAPI e via dicendo, e poi la seconda tessere è il partito radicale transnazionale che per statuto non sarà mai in concorrenza con il tuo partito. E' chiaro che mi sembra molte volte, non dico una finzione il termine che mi viene, mi scuso per il termine, però per far capire è una contraddizione chiaramente, per cui non è stata risolta, non verrà mai risolta, probabilmente nemmeno necessario risolverla. Io credo che oggi in ordine di questo congresso sia capire cosa facciamo in una situazione in cui abbiamo le elezioni siciliane dove noi non c'eravamo, non siamo neanche interessati. Abbiamo le elezioni regionali prossime in tre regioni, Molise, Lazio e Lombardia, dove in due abbiamo tentato, c'eravamo, dove ci saranno dei cuori da raggiungere, decidere se stiamo in coalizione, fuori e via dicendo. Elezioni politiche ormai alle porte in cui non è necessario decidere adesso, ma chiaramente saremmo chiamati fa alcune settimane a doverci schierare. L'evoluzione del quadro politico, le primarie a destra e a sinistra, anche se sono fasulle, finte, però ci sono, crea un attivismo e un'aggregazione di due poli che si propongono di governare l'Italia. In mezzo abbiamo l'asse Grillo di Pietro che in qualche modo tende a avere un suo ruolo protagonista, che non riuscirà a vincere a governare l'Italia, ma riuscirà a sentire presente. Io credo che su questo il nodo è cosa facciamo i radicali, che inclusione proponiamo al popolo radicale, alle aree radicali in questa occasione, che poi la proposta venga fuori da radicali italiani in qualche modo, modificata il giorno dopo in un comitato. Dall'analista Pannella o da qualcun altro mi interessa poco, però questo è il tema su cui oggi bisogna confrontarsi. Non dimentichiamoci che abbiamo delle grosse novità di cui noi siamo un po' a parte, non solo la roba Grillo e oggi di Pietro in qualche modo, ma anche il meccanismo delle primarie del PD, dove la figura di Renzi è oggettivamente di rottura e di cambiamento, al di là di quello che lui dica, pensa, faccia. È come dire che Obama non lo è perché su quel tipo particolare di questione è poco timido oppure non sono d'accordo su cosa pensa di quell'altro. In realtà è Obama, appunto. E la renta in questo momento nel PD ha un effetto così forte che chiaramente sta mettendo anche in discussione l'egemonia del segretario nel popolo del PD, al di là di tutte le questioni. E a destra c'è una situazione molto complicata, con un orgoglio di buona parte del PD, del PDL, d'Alfano e d'altri, che non è soltanto interpretabile come una difesa della cadrega, del posto. È anche una capacità, la voglia di dover inventarsi qualche cosa, dove era post-Berlusconiana, con un Berlusconi che sempre di più tende a non uscire dal Berlusconi. C'è oggi la battuta più felice che ho usato ai giornali, è sulla stampa del vignettista, l'estretto del manifesto, adesso mi spugge... San Sonelli... No, sì, no, l'estretto del manifesto, l'importanza, il quale ha detto una cosa molto semplice, Berlusconi smentisce di essere Berlusconi. E ormai siamo in una situazione in cui ogni giorno si alza e non avendo più dei consiglieri costanti, come avevamo in passato, si fa condizionare dal primo che incontra il bar quando prende il cappuccino. Silvio, siamo in chiusurissima, ti ricandidi? Allora, io credo che abbiamo un segretario e un tesoriere che sono tre anni, questo è il quarto. Io sono due, questo è il terzo, non c'è nessun motivo per non fare due senza tre. La squadra funziona, c'è, non capisco perché molte volte, so perfettamente che una parte dei radicali non piaccio. Non mi stupisce, anzi, credo sia anche un merito molte volte questo. Le gravatte sono splendide. L'unanimismo non mi è mai piaciuto. Dopodiché, ritenere che il problema dei radicali italiani, sia che un presidente sia meno rappresentativo di qualcun altro, è l'ultima cosa più ridicola che sento dire. Grazie Silvio Iale. Grazie a tutti.